Il Ducato di Borgogna, un'eredità compressa tra Francia e Impero Il Ducato di Borgogna, esistito tra l'Ottocento e il 1477, rappresenta un capitolo affascinante e complesso della storia europea. Situato a cavallo del confine tra Francia e Sacro Romano Impero, il Ducato si distinse per la sua ricchezza, potenza e cultura, sviluppando una propria identità indipendente. Le origini, le prime tracce del Ducato di Borgogna risalgono l'843, con la divisione dell'Impero Carolingio. La porzione occidentale, assegnata a Carlo il Calvo, comprendeva la regione della Borgogna, che divenne un Ducato vassallo del Regno di Francia. L'ascesa e l'autonomia, nel corso dei secoli successivi, il Ducato di Borgogna si avviò verso un'ascesa graduale. Sotto la guida di duchi capaci come Roberto I e Filippo Lardito, il territorio si espanse considerevolmente, acquisendo nuove terre e rafforzando la propria autonomia a un centro di potenza e cultura. Nel XV secolo, il Ducato di Borgogna raggiunse il suo apice sotto il dominio dei duchi Filippo il Buono e Carlo il Temerario. Il Ducato divenne un centro di potere e cultura, rivaleggiando con le grandi monarchie europee. La corte di Borgogna si distinse per la sua magnificenza, attirando artisti, letterati e musicisti di fama internazionale. La guerra dei cent'anni e la fine del Ducato, il Ducato di Borgogna si trovò coinvolto nella guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra. Filippo il Buono inizialmente si alleò con gli inglesi, ma in seguito cambiò schieramento appoggiando il Delfino di Francia. La politica estera di Carlo il Temerario, invece, si rivelò più aggressiva e ambiziosa. Egli tentò di espandere ulteriormente il Ducato, scontrandosi con la Francia. La sua morte in battaglia nel 1477 segnò la fine del Ducato di Borgogna come entità. Indipendente Carlo il Temerario, un duca ambizioso e il suo turbolento regno. Introduzione Carlo il Temerario, duca di Borgogna dal 1467 al 1477, è una figura storica complessa e affascinante. Le sue ambizioni sfrenate e il suo carattere impulsivo lo hanno reso protagonista di un regno turbolento, segnato da guerre, intrighi politici e assedi. Infanzia e giovinezza Nato nel 1433 da Filippo III il Buono e Isabella di Portogallo, Carlo crebbe in un ambiente di grande ricchezza e cultura. Sin da giovane, mostrò un carattere forte e ambizioso, partecipando attivamente alle vicende politiche del Ducato. Nel 1454 sposò Caterina di Valois, sorella del re di Francia Luigi XI, un matrimonio che avrebbe avuto un impatto significativo sul suo futuro. Ascesa al potere e ambizioni regali Nel 1467, alla morte del padre, Carlo ereditò un Ducato di Borgogna all'apice del suo splendore. Il suo territorio comprendeva vaste aree dell'odierna Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, e la sua ricchezza rivaleggiava con quella dei grandi regni europei. Carlo aspirava a creare un regno indipendente e potente, in grado di rivaleggiare con la Francia stessa. Per realizzare questo sogno, intraprese una serie di guerre e campagne militari contro i suoi nemici, tra cui il re Luigi XI, gli Asburgo e le città fiamminghe. Le guerre e le conquiste Il regno di Carlo il Temerario fu segnato da numerose guerre e battaglie. Nel 1468, sconfisse gli eserciti di Luigi XI nella battaglia di Montleri, consolidando il suo potere e la sua fama di abile condottiero. Negli anni successivi, espanse il suo dominio conquistando la Lorena, la Geldrie e il Ducato di Nevers. Tuttavia, le sue ambizioni lo spinsero a scontrarsi con la Confederazione Svizzera, una potenza militare inaspettata che si rivelò fatale per il suo destino. La disfatta e la morte Nel 1476, Carlo il Temerario subì una pesante sconfitta nella battaglia di Grandson contro gli Svizzeri. L'anno successivo, venne nuovamente sconfitto e ucciso nella battaglia di Nancy. La sua morte segnò la fine del sogno di un regno indipendente di Borgogna. I suoi territori furono divisi tra gli eredi e il Ducato di Borgogna venne annesso alla Francia. Eredità e influenza Carlo il Temerario è una figura controversa nella storia. Da un lato, viene ricordato come un Duca ambizioso e guerriero, che ha perseguito con tenacia i suoi obiettivi. Dall'altro, è stato criticato per la sua impulsività e per le sue scelte politiche, che hanno portato alla rovina del Ducato di Borgogna. Nonostante la sua tragica fine, Carlo il Temerario ha lasciato un'eredità importante. Il suo regno ha contribuito allo sviluppo economico e culturale delle Fiandre e della Borgogna, e la sua figura ha ispirato numerosi artisti e letterati. Conclusione Carlo il Temerario è stato un Duca complesso e affascinante, che ha vissuto in un periodo di grandi cambiamenti politici e sociali. Le sue ambizioni e le sue guerre hanno avuto un impatto significativo sulla storia europea, e la sua eredità continua ad essere oggetto di studio e dibattiti. Grazie! 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 Grazie!